Si prepara a tornare in campo la Biellese. Un lungo mese di sosta, quindi il big match della Marmora Pozzo contro lo Stresa, quindi altre due settimane di pausa a causa del turno di riposo in campionato. Insomma, un girone di ritorno certamente spezzettato finora per i ragazzi di Mister Rizzo, che sull'erba sintetica di corso 53esimo Fanteria continuano a lavorare per l'obiettivo dichiarato. E sarà proprio sul pratico e ovviamente impeccabile campo secondario che i laniere scenderanno in campo domenica pomeriggio. La location dello stadio, seppur lodata dall'opinione di molti, tra cui lo stesso Mister, torna ad essere accantonata. Motivi logistici, il Torino Primavera gioca in casa nello stesso weekend, un match di campionato contro il Lecce. In verità, molti appassionati addetti ai lavori hanno comunque sottolineato le condizioni tutt'altro che strepitose del manto erboso del principale impianto cittadino. Il bel colpo d'occhio del match con lo Stresa viene quindi momentaneamente inserito nella pagina dei ricordi. Ci sarà tempo per tornare in quella che dovrebbe essere la casa della biellese. Domenica, intanto, c'è la Pro Eureka. I torinesi non dovrebbero costituire un grosso problema. All'andata settimo, Agnesina e compagni si erano imposti con un comodo 3-0. C'è però da fare attenzione, perché la Pro è reduce da una bella vittoria nel derby contro il Borgaro, ma la biellese parte comunque favorita. Archiviato il doppio scontro diretto con lo Stresa, che approfittando del riposo della biellese è tornato in vetta alla classifica, la volata finale si giocherà su due campi paralleli. Due che potrebbero anche diventare tre se lo Leggio riuscirà a mantenere quell'ottimo passo che lo ha portato a un solo punticino dalla biellese stessa. Il turno di domenica sarà favorevole anche ai Borromaici, impegnati sul campo del fanalino di Coda Varallo, mentre lo stesso Leggio sfiderà la Fulgor Valdengo. Intanto nel recupero della prima giornata di ritorno proprio la Fulgor Valdengo ha battuto in casa il Borgo Vercelli, un 0 minimo ma pesantissimo ieri sera in un altro scontro diretto per la salvezza, a decidere il gol di Di Cesare alla mezz'ora del primo tempo.